Tropea, prima tappa dei borghi più belli d'Italia. Si è svolta domenica a Tropea la prima tappa itinerante dei borghi più belli d'Italia in Calabria, in preparazione anche del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, che si terrà a settembre 2024 tra Rocca Imperiale ed Oriolo. Nella splendida cornice di Tropea, la Perla del Tirreno, in occasione della manifestazione internazionale Tropea Experience Festival della Cipola Rossa, presente anche Badolato, assieme agli altri 15 borghi più belli d'Italia calabresi, con una propria delegazione istituzionale del Comune di Badolato ed una rappresentanza turistico-culturale della Proloco Badolato APS e AOPT, Riviera e Borghi degli Angeli. Presente anche la Magelleria Salumeria Bressi di Badolato, con un proprio stand per la degustazione, vendita e promozione dei propri salumi e prodotti tipici.